Sì, l'ALEF, per dare maggior visibilità al quartiere, ha realizzato questa mappa dove appunto si fanno vedere questi bellissimi murales, che si sta parlando tanto, bellissimi. Poi ci sarà la visita al lapiario, dove quest'anno c'è stata la prima produzione del miele, bellissimo. Poi c'è la sartoria e poi ci saranno dei piccoli laboratori creativi e artigianali. Abbiamo anche introdotto la visita al mercato bisettimanale. Quando si parlava prima della 167 si aveva un po' di timore, invece adesso è bellissimo poter dire che si svolgono tante attività, ci sono tante belle cose da vedere. Siamo orgogliosi di poter dire che la 167 ospita tante possibilità.